Torta di mele con crema pasticcera La torta di mele con crema pasticcera è un dolce tradizionale semplice da realizzare. La torta è soffice e golosa grazie alla crema pasticcera che avvolge le mele tagliate a fette sottili. Ideale da servire come dessert in occasione di compleanni e feste di famiglia, questa torta di mele è un dolce classico che sarà apprezzato da grandi e piccini. Per preparare la torta di mele con crema pasticcera procedete come segue. Iniziate a preparare la crema pasticcera. In un pentolino fate sciogliere a fiamma bassa 100 g di burro. Quando sarà completamente sciolto toglietelo dal fuoco e fatelo raffreddare. In una ciotola sbattete con una frusta due uova intere con 90 g di zucchero semolato. Quando saranno ben amalgamate versate nella ciotola la farina setacciata e mescolate fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. In una ciotola separate i tuorli dagli albumi e sbattete i tuorli con lo zucchero rimasto, quindi unite anche il burro fuso e mescolate con una frusta fino ad ottenere una crema liscia. A questo punto unite la farina precedentemente preparata, mescolate con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per 30 minuti. Nel frattempo preparate le mele, sbucciatele, eliminate il torsolo e tagliatele a fette sottili. Una volta terminata la cottura, sfornate la vostra torta di mele con crema pasticcera e lasciatela intiepidire. Una volta pronta, sformatela e servitela con una spolverata di zucchero a velo.